Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Sifu, oggi andiamo a fare il terzo livello, ovvero il museo. Come sempre ho rifatto il secondo livello fortunatamente senza morire, anzi sono morto una volta sola e tra l'altro non ho capito neanche bene il perché, dato che avevo fatto delle schivate giuste, però a quanto pare il gioco non me le ha contate valide e quindi amen, niente, son crepato. Oggi andiamo a fare il terzo livello, ovvero il museo. Il museo che presenta, a mio avviso, il boss, il secondo boss più difficile del gioco. Perché ovviamente il boss più difficile è quello finale, che è un qualcosa di veramente delirante, oserei dire, e vi spiegherò anche il perché, ma diciamo che anche il museo è uno scherza, ha un boss che per me, ripeto, è il secondo più difficile, ma ve lo farò vedere il perché. Il museo. Il museo è edificio recente e di lusso, finanziato privatamente. Il passato di Kuroki è impenetrabile, senza dubbio è di origini giapponesi e le voci di corridoio la collegano alla malavita del suo paese. Deve esserle successo qualcosa per obbligarla a trasferirsi in Cina. Ora gestisce un museo d'arte, è lì che lavora giorno e notte alla sua esposizione più ambiziosa di sempre. Quindi ci stiamo addentrando verso quella che sembra essere la carriera appunto di un artista per il museo. Detto questo, ho già fatto, anzi, vi dico anche che cosa ho fatto. Ho potenziato diverse abilità e quelle che secondo me servono di più in questa occasione saranno, senza ombra di dubbio, la ferra arma e capirete benissimo il perché dopo. Il colpo abbassato, che permette di anticipare le mosse degli avversari schivando e attaccando nello stesso momento, quindi è veramente veramente utile. Il pugno abbassato, che sbloccheremo appena possibile, dato che anche il pugno abbassato per me è una tecnica allucinante, è probabilmente una delle quelle poche tecniche che può stunnare anche i nemici più grossi, quindi è l'unica che effettivamente mi serve. E poi le altre skill le sbloccheremo piano piano e vi dirò quali sono quelle secondo me migliori da sbloccare prima di subito. Cominciamo, museo. La prima run del museo per sbloccare tutte le shortcut è abbastanza brutale. Probabilmente qui moriremo. Moriremo diverse volte, ne sono abbastanza sicuro. Infatti poi sta a me battere il boss direttamente al livello con cui sono adesso per evitare e per azzerare tutte le morti che ho fatto praticamente adesso. La peculiarità di questo livello è che praticamente la maggior parte dei nemici che incontrerete sarà armata. Per cui sì, sarà un bel casino. Sarà un bel casino perché le armi fanno danno anche durante le parate, quindi bisogna essere bravi nelle schivate e nei perri, soprattutto. Questo è l'ascensore che non possiamo sbloccare. Devo trovare una chiave per accedere a questo ascensore. E questo è l'ascensore che porta direttamente dal boss. Quindi a fine gioco, o comunque a fine livello, noi potremo tranquillamente andare direttamente dal boss. L'accesso alle scale è bloccato. Porte per le scale sono bloccate, quindi serve una tessera elettromagnetica per accedere alle scale. Quindi noi dobbiamo fare, ovviamente, la strada lunga. Prendiamo il volantino, o per meglio dire la possibilità di poter entrare. Ecco qua. Questi sono tutti i vari volantini che fanno parte del museo, che infatti possiamo sbloccare. Vedete, ci sono tutte le opere d'arte che caratterizzano appunto questo museo. Qua fate attenzione perché c'è una bella imboscatina. Le armi, fortunatamente, consentono di fare dei bei danni. E consentono anche di stunnare più facilmente, quindi ne approfittiamo ed è sempre meglio. Prendiamo la mazza, che è più comoda per stunnare. Ecco, qui dobbiamo fare attenzione perché... Ecco, sono stato stunnato. Però abbiamo recuperato egregiamente, oserei dire. Qui c'è il direttore addirittura del direttore. Sarà un... Un dirigente, qualcuno, che è venuto addirittura con la lama. E noi la prendiamo, ovviamente. E possiamo salire al primo piano. Se vanno a segno i primi colpi... Atterrare è sempre la scelta migliore per me. Perché atterrando i nemici gli facciamo perdere le armi. Per cui atterrarli, secondo me, è sempre la soluzione migliore. Sì, sono io quello che ho buttato a Sean. Ecco, questi hanno le stesse tecniche di Sean che io non capisco. Perché riescono a colpirmi lo stesso. Nonostante io... Ecco, nonostante io faccio le schivate, loro mi colpiscono lo stesso. Ok, fortunatamente non ci siamo morti. Questa era una delle sale che... poteva dare problemi. Perché, ripeto, questi colpi, non so perché, anche se li schivo, delle volte mi colpiscono lo stesso. Quindi non posso farci nulla. Ecco. Qua basta che ti colpiscono con la lama una volta, sei letteralmente fottuto. Ok, a questo punto sblocchiamo il pugno. Che è un'altra di quelle abilità che a me serve, ovviamente. Perché, vedete, riesce a dare un bel rapporto di stun. Ovviamente le lame non si possono, diciamo, parriare come... come si possono parriare magari le mazze o i pugni. Quindi è difficile contraattaccare in maniera efficiente. Bisogna letteralmente schivare. Statuetta che... Sì, aumentiamo il vigore con la schivata. Qualche punto in più da poter sfruttare? No, però era va bene così. Devo essere molto bravo col boss se non voglio fare altre morti. Perché potrei rischiare altre morti, purtroppo. Ok, questo è diventato Elite, quindi... Quindi adesso mi resetterà la morte, fortunatamente. Perfetto. La mazza la preferisco... La preferisco perché... Aia, porca puttana. La preferisco perché stunna di più. Cioè, la lama è buona perché fa danni... Fa danni anche con la parata. Quindi se ti pari, prendi comunque danno. Ma la mazza... Ti stunna facilmente. Per me è top. Ecco, qui purtroppo... Non si può entrare. Questa è una bella zona che potremmo sbloccare a breve lo stesso. E darà qualche piccola chicca per un livello vecchio. Per un livello precedente. E probabilmente poi vi monterò tutto negli extra. Diciamo, con un episodio bonus. Ecco, questa è una bruttissima stanza, per esempio. Eccoci qua. Vedete, mi afferrano lo stesso. A volte non capisco il perché. I minion sono deboli in realtà. Quindi la mia scelta, tecnicamente, mi consiglio di far fuori prima i minion. Si può schivare anche con R2 delle volte, che non è male. Ok, facciamo fuori questa. Assolutamente buono. Poi facciamo fuori il primo. Non vedo un Kaiser. Spostiamoci. Ecco qua. Non lo ho stunnato. Ok, non siamo morti, fortunatamente, qua. Questa è un'ottima cosa. In sostanza è un po' fastidiosa, in realtà. Prendiamo un'altra mazza. Questa stanza è parecchio fastidiosa. I due emergumeni possono dare problemi. Primo mid-boss. Ecco. Questi sono i bodyguard. Si incontreranno spesso e volentieri da ora in poi, all'interno del gioco. e sono molto, molto duri. Se sono uno contro uno, non sono un grosso problema. se non ti fanno le prese a tradimento, ovviamente. Perché non pensavo mi facesse la presa, qua. Peccato per questa morte. Tessera magnetica del museo. Abbiamo preso, adesso, la tessera magnetica per schippare già diverse stanze. E questo, diciamo, è un ottimo vantaggio, ovviamente, per ricominciare il livello e cercare, magari, di abbassare l'età del vostro personaggio, qualora, ovviamente, abbiate fatto qualche morte stupida come la mia di poco fa. Ovviamente. Non mi aspettavo quella presa, quindi, non stavo schivando al 100%. Adesso vi conviene, la cosa che consiglio a tutti di fare è andare da questo lato per, ovviamente, porta della residenza dell'artista che, in questo caso, non sappiamo, effettivamente, ancora come sbloccare. Ma avremo modo di sbloccarlo in futuro. E scendere da questo lato. Scendere da questo lato è importante perché spunteremo dalla zona dove prima non potevamo entrare. Se vi ricordate bene, c'era una zona dove non si poteva entrare. Ecco qua. Vedete dove ci troviamo? Siamo nella zona dove, praticamente, noi siamo arrivati da quel lato e non potevamo entrare da quel cancello. Quindi adesso possiamo entrare. C'è ed è importante andare qui per affrontare lei. Sto attacco mi colpisce sempre. guardare. Sto attacco Perfetto Lei era un altro nemico elite Codice del club Esatto Vi ricordate la porta elettromagnetica Con il codice che avevamo visto All'interno del secondo livello Del club Esatto Ora praticamente vedete Abbiamo la possibilità di poterla aprire Quindi rifare il livello ci potrà sbloccare Degli altri segreti Strana maschera Questa maschera sempre prende si gioco di me Quindi è un altro collezionabile Che ovviamente potete ottenere E via Vedete abbiamo praticamente quasi Quasi trovato tutto Ancora c'è qualche cosa che ci manca Ma a breve potremo Potremo sbloccare tutto Ok a questo punto risaliamo Perché il nostro obiettivo Comunque si trova in cima La nostra artista Si trova in cima Ovviamente non possiamo entrare qui Nella stanza dell'artista E andiamo avanti Statua per baffarsi Ovviamente Io vi consiglio di Vi consiglio di baffarvi dopo Aver sconfitto il nemico Perché Una volta che voi vi baffate Praticamente aumentate la vita Quindi Cioè vi ripristinate la vita Quindi se vi ripristinate la vita E la perdete dopo Secondo me è un po' uno spreco Però A vostra A vostro discapito E Altra cosa che dobbiamo sbloccare La pioggia Di pugni Pioggia di pugni Che è Utilissima Quando si Quando si Countera E poi si Si effettua Diciamo L'attacco Perché Aiuta Aiuta a ridurre la stabilità Del nemico Ed è comoda Perché Fa anche parecchi danni Da qua adesso bisogna saltare E io l'ho capito Dopo mezz'ora Praticamente E si può andare Verso La fase Finale Questa è una parte Bruttissima E' veramente tosta Questa parte Perché ci sono nemici Che spuntano Praticamente Ovunque Per cui Consiglio sempre Di muoversi Vedete la raffica Di pugni Aiuta Un perry Fatto nel modo giusto Qua vi aiuta Ecco E qua Arrivano adesso Le gemelle Le gemelle Kessler Con tanto Di amico Fritz Che ti stunnano Come se non ci fossero domani Madonna mia Qua mi aveva preso Merda Lo sapevo che qua morivo E queste sono difficili Da gestire Perché si stunnano Molto lentamente Cerco di affrontarli Sempre uno a uno La mia strategia è questa Cercare di portarmela In giro E affrontarle Uno a uno Però se riuscite Ad armarmi Forse Se riesco ad armarmi Forse È la soluzione migliore Vedete Stanno tutti quanti Insieme Ed è difficile Affrontarli Se Se arrivano Tutti quanti Insieme Ok Fuori una Ok Qua il tizio Praticamente Si è pagato Sembra Non Non interessarsi Alla partita Ecco Adesso si Si è interessato Di nuovo Per cui Io faccio Il giro E riattacco La sorellina Buono E adesso Occupiamoci Del nostro Amichetto Ok E resettiamo Anche il counter Delle morti Una volta Superata Questa parte Entriamo In una zona Un po' Particolare Non difficilissima Ma particolare Simile a prima Scorrimento orizzontale Anche qua Con i nici Che però Hanno una grossa Barra Con una grossa Barra Della stamina Quando manca poco La vita Lanciate l'oggetto Con R1 E fate il danno Che vi serve Aia Non pensavo Mi beccasse Questa La scarica Di pugni Se fatta Bene E utilissima Penso sia Uno degli attacchi Più forti Che ci sia All'interno Del gioco Se è riuscito A pariare L'attacco In corsa Vi garantite Praticamente Vi garantite Praticamente Il Vi garantite Praticamente Lo stun Riuscite a parare Mentre vi stanno Attaccando È difficile Però Vedete Quanto Quanto Stunna Una raffica Di pugni Fatta bene E praticamente Avete E praticamente Avete La strada Libera È allucinante È allucinante La scarica Di pugni L'ho sottovalutata Tantissimo Durante tutto il gioco Ma adesso È diventata Una delle mie mosse Migliori La mente È come un Iceberg Il Flote Con Un Sevento Di Il 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 Water La donna Odio la parola Acqua In inglese Ragazzi Non mi piace Come suono Altro bodyguard Eh Qua mi ha preso Mi ha stunnato Perfetto Siamo arrivati Praticamente Alla fine Questa È La fine Del livello C'è L'ultima Parte Con le ultime Due gemelle Kessler Dopodiché C'è il boss E vi posso assicurare Che il boss È un delirio Se non siete Ancora pratici Con i comandi Con le schivate E se non volete Utilizzare I metodi Lamer Che esistono In giro Perché ne esistono Diversi Di metodi Lamer Ve lo assicuro È una bella Boss Fight Molto tecnica Molto Veramente Ve la farò vedere Allora Questo è un nemico Praticamente Ha il moveset Delle gemelle Kessler Quindi Può essere Anticipata E poi colpita Con la raffica Di colpi Molto easy Molto easy Le gemelle Le gemelle Kessler A differenza Dei A differenza Degli Emergumeni Possono essere Stunnate Da questi Attacchi Quindi È più facile Gestirle A differenza Degli Emergumeni Che invece Non si possono Stunnare Qua facciamo Attenzione Perché adesso È esatto Arrivano Praticamente I nemici All'improvviso No Non mi ha fatto Ok Fortuna che sono Deboli questi Perché sono tipo Dei minion Quindi non hanno Problemi E adesso Possiamo Prendere un'arma E dirigerci Verso La fine Abbiamo ormai Finito ragazzi Ci sono Ormai Le ultime Esatto Le ultime Due gemelle Kessler Dopodiché Abbiamo finito Che avete Dell'ascensore Una volta Sconfitte Le due gemelle Kessler Abbiamo la chiave Dell'ascensore Quindi adesso Da questo momento in poi Possiamo sbloccare L'ascensore E andare Direttamente Verso La boss fight Perché l'ascensore Ci fa salire Direttamente Tutti i piani E Sì Praticamente Si arriva Alla boss fight Eccoci Qui Questa è L'ambientazione Del boss finale Che fa molto Kill Bill Uma Turman Contro Lucy Liu Se ci fate caso Qui ragazzi La cosa Che mi potrebbe Interessare L'acquisizione Del focus E Le abilità Cominciamo a Sbloccarne Un paio In modalità Permanente Anche perché 25 anni Al quarto livello Potrei anche Accettarlo Per il momento Anche se No Non credo Di accettarlo Credo che Rifarò il livello E cercherò Di fare il boss Senza morire Per rimanere A 22 A 22 anni Sì Penso che farò 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 Questa cosa Ok Prendiamo il calcio Tanto questi punti Non mi resteranno Perché rifarò il livello Quindi è un po' inutile E qua Presentazione del boss Un boss Veramente tecnico Molto bello Anche scenograficamente Mi ha dato Tantissimi problemi All'inizio Perché non riuscivo A coordinarmi Con le schivate Però Veramente figo Prima e seconda fase Figa Anche la host È stupenda Lei utilizza Le lame Quindi sì Esatto Dovete schivare A tempo Ecco È difficile schivare A tempo Perché Non ho capito Perché non si è stunnata Però va bene Questi attacchi Sono un po' particolari Da schivare Perché Vedete Potete anche Continuare ad attaccarla Così Se ci riuscite Stunnarla Attaccarla In continuazione È È abbastanza difficile Questo è l'attacco Più facile Da schivare Ah Questo non l'ho Questo attacco è difficile Perché è sopra sotto Con catenato Ed è abbastanza Abbastanza Complice Prima fase Completata Anzi Mi è andata Molto meglio Rispetto Alle prime volte È ancora Un po' Meccanico Il boss Per me Perché A volte Le schivate Sopra e sotto Non riesco A coordinarle bene Purtroppo È ancora Un mio difetto Non riesco A ricordarmi Che devo Premere su Per schivare Gli attacchi sotto Cioè È schivata Al contrario Ok E non mi viene Istintivo Seconda fase Molto più facile Della prima Vedete perché Vi ho detto Di afferrare Gli oggetti Al volo Perché vi serviranno Per questo motivo Per questo motivo mancato preso non ho capito perché non mi ha fatto nessuna schivata quando si illumina l'occhio schivate questo è abbastanza semplice come trucchetto quasi potete afferrate attenzione alle finte qua ho sbagliato qua l'ho stunnata quindi ne approfitto e qui finisce il boss ovviamente con l'ascensore adesso posso andare direttamente al boss e migliorare la mia età però 25 anni potrei effettivamente anche continuare ma sapete che io poi sono preciso e perfezionista in queste cose quindi rifarò il livello e cercherò di non morirci per affrontare il quarto livello nella maniera più corretta il quarto livello non è estremamente complesso anche il boss non è difficile a mio avviso però ci sono degli accorgimenti che dovremmo prendere detto ciò io vi aspetto alla prossima e grazie ancora per essere stati con me bye bye ciao 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 ciao